Buonasera a tutti, mi presento, sono Alessandra Balduccini, sono un'agronoma specializzata in olivicoltura e gestisco un'azienda olivicola in penisola sorrentina a conduzione biologica. La nostra piccola azienda nel suo piccolo cerca di non pensare solo a se stessa e quindi ogni anno devolviamo una parte del nostro ricavato destinato a progetti in agricoltura gestiti da donne, oppure nei paesi in via di sviluppo, oppure nei confronti dell'infanzia. Io attraverso la mia storia vi vorrei raccontare le difficoltà che io incontro come donna e come olivicoltrice. La mia storia in realtà l'hanno fatta gli antenati, iniziando all'incirca nel 1600 ad acquistare dei terreni in penisola sorrentina. Noi abbiamo mantenuto intatte le coltivazioni, quindi produciamo olio, noci e agrumi. Nel 98, rientrata in penisola sorrentina, ho deciso di occuparmi di questo bene che mi era stato lasciato, però dopo tanti anni era un terreno senza cura. Vi voglio solo portare nell'immaginazione a pensare come poteva essere un terreno non coltivato, lasciato. Era come una foresta. Gli olivi erano arrivati a 8 metri, impensabile mandarci degli uomini sopra a raccogliere, si sarebbero fatti male. E così ho iniziato a fare la pulizia del terreno e poi successivamente la botatura, tutto regolarmente autorizzato. Cosa succede? Vengo denunciata per abuso edilizio, non lo avevo commesso. E allora gli amministratori che cosa fanno? Mi denunciano per ipotetico abuso edilizio, un processo alle intenzioni. Anche qui non c'era. Allora cambiano. Li avevo estirpati, io li avevo potati. E allora a questo punto io mi chiedo, ma i nostri amministratori che cosa pensano? Che i terreni producano case, producano alberghi, che uno non voglia coltivare. Non mi sembra una cosa possibile. E non sarebbe invece possibile nella mente di queste persone pensare che uno vuole semplicemente produrre. Ma le difficoltà che noi incontriamo sono anche altre. Non solo sono gli amministratori locali, è anche la governance della politica che blocca spesso della buona agricoltura. Spesso noi vediamo che l'operato della politica ostacola il corrente mantenimento dell'arte della coltivazione. E io la chiamo arte, non solo buona agricoltura. Vi faccio degli esempi per capire che cosa voglio dire. Io ho dei muri a secco. Tutti quanti li ammiriamo quando veniamo in penisola sorrentina o nella riviera Ligure. E che cosa vediamo? Questi muri sono bellissimi. Ci prevengono il dissesto idrogeologico. Ma quando noi li dobbiamo mantenere, noi dobbiamo fare una pratica che è identica a quella che serve per edificare, con gli stessi costi. Il problema è che il muro prima c'era, la casa no. E perché devo mantenere gli stessi costi? Come posso io poi poter pensare di stare sul mercato così? E perché i nostri comuni non attivano i loro uffici tecnici, fanno una semplificazione amministrativa, ci aiutano producendo loro le planimetrie di come noi li dobbiamo fare i terreni. Io li faccio, voglio tutti i controlli del mondo e se sbaglio fammi pagare anche il doppio. Però aiutami, non mi far sostenere dei costi insostenibili. Io questo non lo posso fare, ma come me non lo possono fare tanti piccoli agricoltori. Allora è questo che si deve cambiare. Eppure noi oggi, poi dopo che cosa facciamo? Diciamo parole incredibili di estrema fantasia. Bombe d'acqua. Io non le avevo mai sentite. Per dire cosa, invece che cosa? Il terreno non viene mantenuto, il territorio non viene mantenuto. Ma perché? Perché fate delle regole impossibili. Nessuno lo mantiene. Cerchiamo di mantenerlo, ma è difficile con questi costi. E allora poi dopo ti stupisci e vedi come non sono soli i muri. Quest'anno, ottobre, il nostro Ministero dell'Agricoltura, secondo me in modo incoerente, ha finanziato per un valore di 15 milioni di euro l'Oleficio Dante. Il bello è che l'Oleficio Dante non produce, trasforma e commercializza. Ma nel frattempo noi stavamo in piena emergenza a xylella fastidiosa. Certo era fastidiosa, però non abbiamo fatto niente. E l'olivicultura italiana era a pezzi. Ma non solo l'olivicultura italiana, posti di lavoro finiti. Si poteva fare meglio? Forse sì. Io dico di sì. Però vorrei anche presentarvi quest'ospite sconosciuto che tutti quanti avete nelle vostre case, che è l'olio extravergine di oliva. Tutti quanti lo abbiamo. Ma qualcuno lo conosce? Sa com'è fatto? Io per esempio nel mio piccolo conosco la minucciola, che è una delle 600 varietà che esistono in Italia. Poco, una. Ma pensate, immaginate solo per un attimo, poterle provare tutti queste varietà monovarietali, tutte le possibili combinazioni. Proveremo un sacco di sensazioni. E questo invece noi non lo facciamo. Eppure l'uomo è nato insieme all'olivo. Ma l'olivo, grande differenza, come tutte le altre piante, non ha bisogno dell'uomo. È l'uomo che ha bisogno dell'olivo. E allora perché non ci prendiamo cura del territorio? Perché non curiamo con amore e attenzione le piante come facciamo con un buon amico? Io per esempio, attraverso l'osservazione, ho capito che per aumentare la qualità del mio prodotto avrei dovuto ridurre il tempo di raccolta. Ridurre per me il tempo di raccolta è difficile perché io non posso meccanizzare. A me dura circa 20-30 giorni. 20-30 giorni sono tanti. Io non sono l'olio Dante. Io devo stare attenta. Allora cosa ho pensato? Ho detto, ok, io ci metto 20-30 giorni perché ho sei collaboratori e due pettini per la raccolta agevolata. Voglio arrivare a tre giorni. Organizzo un cantiere di lavoro con 12 operai e sei pettini di raccolta. Uno sforzo enorme è gestire 12 operai in un cantiere. E sono una donna. Ci sono riuscita. Ho avuto premi. E' andato tutto. E guardate, per noi piccoli produttori, il prodotto è la nostra. Non c'è distinzione. Noi siamo il prodotto. Se il prodotto non è di quella qualità, nessun piccolo produttore lo mette in vendita. Non lo imbottigliamo. La qualità deve essere elevata. Noi ci mettiamo la faccia. Per questo abbiamo bisogno di fiducia. Perché il prodotto è noi. Non c'è distinzione. Però poi che cosa succede? Io finalmente ho curato il prodotto. Sapete quanti procivole. Io devo andare nel terreno tutto l'anno. Del terreno. Devo curare le piante. Devo potarle. Devo raccogliere al giusto momento di raccolta. Devo organizzare i cantieri di raccolta. Poi devo andare alla molitura. Poi devo fare le analisi. Chimiche sensoriali che non tutti fanno. Spesso le fanno dopo i controlli. Noi le facciamo prima. Poi devo pagare la certificazione per il biologico. Poi devo imbottigliare. Devo stoccare. Finalmente confeziono. E poi incrocio le dita sperando che lo vendo. E cosa succede? Un'altra bellissima sorpresa. Vado al mercato. E l'olio extravergine di oliva lo trovo dai 3 ai 6 euro. E come faccio? Io pago un operaio 85 euro al giorno. 16 euro al quintale di molitura. 12-13% di resa in olio. Impossibile. Ho veramente fatto tutto. Eppure alla fine che cosa succede? Si parla solo di cibo. Si scrive di cibo. Ma sono cibo e agricoltura sono due rette parallele che non si incontrano. I buoni prodotti non si vendono. Questa è la realtà. E la realtà è che invece le soluzioni ci sono. Ma quali sono queste soluzioni? Le soluzioni che bisogna dire diritto e voce ai beneficiari. Ma non solo ai beneficiari agli agricoltori. I beneficiari devono intervenire nei progetti. Perché spesso alla fine le stesse persone che parlano di cibo. Non l'hanno mai visto un territorio. E a me non mi interessa. Io voglio ridare dignità al coltivatore. Ma non a quello del chianti. E non voglio nemmeno dei reality che cercano mogli per i contadini. Devo dire in questo la parità di genere dell'offesa è certa. Non ho ancora capito che si deve offendere di più. Io credo che sia arrivato il momento di puntare alla formazione di potatori, orticoltori, manutentori del territorio, persone che sanno pensare che il terreno e l'agricoltura mantengono le connessioni sociali, che mantengono il territorio, le tradizioni. Noi dobbiamo andare oltre la sostenibilità. Perché la sostenibilità è stata attravisata da una visione miope. E questa visione miope che cosa ha portato? Orti verticali, pannelli solari su terreni agricoli. Questa è stata la visione. La tecnica ha prodotto delle soluzioni solo nell'immediato. La visione globale non c'è stata. Non c'è stata un'attenzione alle interconnessioni sociali, culturali che mantengono il tessuto della società. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, che per me è prezioso come l'olio. E spero che diventi un vostro amico.